benvenuti a un nuovo pre partita del viola canadese oggi ho un ospite speciale perché facciamo un pre partita con un super tifoso del genoa con fabrizio appunto buonvenuto fabrizio fabrizio appunto titolare creatore del viola scusate il genoa club di toronto appunto e grazie mille fabrizio per essere il nostro ospite grazie a te gabriele grazie per essere ospite a questo tuo podcast allora quindi preso ti presento un attimo fabrizio anche te appunto in canada come me quindi c'è una bella cosa italiani in canada te sei tifoso del genoa e hai creato appunto qualche anno fa il genoa club di toronto mi puoi dire ci puoi dire appunto qualcosa del genoa club e e come funziona appunto perché non ho non sono mai entrato non ho mai non ho mai visto club calcistici al di fuori diciamo dell'italia ecco quindi sono molto curioso di sapere come funziona e come l'hai creato certo niente praticamente la mia storia diciamo tra il canada e l'italia è un po complicata come più o meno ti avevo raccontato prima della registrazione però quando sono rientrato in canada chiamiamola così nel 96 niente volevo un po per la mancanza sempre stato affezionato e patito per il genoa non ai livelli di quei tifosi scalmanati e cose del genere ma un tifo sano sportivo chiamiamolo così mi sono detto beh perché non perché non portare avanti il nome del genoa anche per riconoscere ai canadesi genova in sé anche come città quindi fare un tandem di sport e di città allo stesso tempo mi sono sentito indirettamente perché quei tempi c'era poco calcio in canada una specie di missionario a portare il nome del calcio non solo calcio ma anche calcio italiano al mondo anglosassone non ti dico che grazie anche a me ma da allora adesso c'è la mls c'è molta più 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 c'è molta più gente che parla di calcio ovvio non certo ai livelli degli altri sport ma decisamente molto di più grazie anche al club poi ho avuto contatti con svariati non tantissimi per carità ma genovesi che si sono contattati con me dove ci siamo poi riuniti per poter parlare del genoa guardare le partite ogni tanto adesso ovviamente sotto questa situazione così della pandemia è molto più difficile però mi ricordo a quei tempi dovevamo aspettare che ci fosse la rai international che facesse vedere la partita del genoa perché a quei tempi ne facevano vedere solo una e tutto quanto adesso è molto 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 facile da sonno altre piattaforme appunto possiamo andare in che anno è nato il genoa club di toronto appunto genoa toronto l'anno prossimo farà 25 anni quindi nel 1996 ma perfetto quindi diciamo diciamo bello solido nel cor di toronto ecco diciamo nel e hai un locale dove appunto fai vedere le partite tutto come funziona ma diciamo che il club non è il classico all'italiana dove c'è una sede queste cose così a la sede può essere casa mia come casa di qualcun altro è poco poco rilevante alla fine dove ci vediamo le partite o a casa appunto dipende quanti siamo oppure si va sempre in questi locali dove ci sono le televisioni grandi e ci cerchi mettiamo d'accordo con il gittore eccetera certo mi piace tra l'altro il modo il grifone con la bandiera canadese rosso blu anche io ho fatto un misto tra giio e e appunto bandiera canadese perché mi fa piacere appunto cercare di integrare due culture differenti e quella italiana e quella canadese intorno nel caso quella genovese appunto con quella canadese nel mio caso quella fiorentina con quella canadese un bel progetto e ti faccio complimenti appunto io stavo cercando un viola club a toronto ma non l'ho trovato forse non c'è quindi sotto tuo consiglio magari forse inizierò a pensare di crearlo ecco appunto un viola club assolutamente anzi scusami ti interrompo ma con un affetto e cuore per questa cosa che ti incoraggio a fare anche perché a quei tempi quando io iniziato ero da solo e da lì ha portato a svariate persone o simpatizzanti o genovesi che poi mi hanno contattato grazie anche a quello certo è conto adesso passiamo al prepartita perché domani lunedì appunto giochiamo fiorentina genoa due squadre gloriose due squadre dalla storia blasonata che purtroppo in questo momento si ritrovano in posizione di classifica che non dovrebbero essere le loro appunto perché noi siamo quarti ultimi e voi siete terz'ultimi appunto e non penulti appunto quindi diciamo genoa fiorentina non dovrebbero essere in queste posizioni classifica storicamente e appunto per il livello di una zona che abbiamo come la vedi la partita di domani cosa ne pensi e che sensazioni ai sensazioni come posso anche iniziare al di fuori dal di sopra di dire soltanto grande delusione grande rabbia grande tristezza per l'ennesima annata di ritrovarci nei bassi fondi due anni di seguito per il rotto della cuffia poter essere rimasti in serie a che che posso vedere anche tutti gli altri al di fuori che dicono a ma allora il genoa si in realtà si meriterebbe la serie b perché non puoi continuare una squadra così arrivare l'ultimo per quanto riguarda la partita con la fiorentina è delicatissima nel senso come 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 statistiche il genoa non ha mai fatto grandi punti a firenze e sono punti affamati c'è fame di punti da parte di tutte le squadre quindi si potrebbe vedere forse una partita molla perché tutti hanno paura di poter perdere oppure si vede una partita fantastica perché tutti vogliono dimostrare quello che hanno sulla carta come hai detto tu giustamente prima dove non c'è il merito di stare così basso tra l'altro io questo sinceramente lo penso di tutte e due le squadre sia la fiorentina che il genoa hanno delle rose più forti rispetto alla posizione che occupano in questo momento cioè con nei nomi mi viene in mente nel genoa per esempio pellegrini o zappacosta lo stesso piacca pandeve cioè non sono giocatori da una squadra che lotta per la salvezza sono giocatori di una squadra da medio alta classifica appunto comunque non per l'europa ma sicuramente metà classifica parte sinistra come la fiorentina ribery amrabat caillon castrovilli abbiamo delle rose sia fiorentina che genoa che dovrebbero competere per ben altre posizioni appunto esatto non non vedi la squadra che si presenta in campo adesso a prescindere dagli fortuni no non è che vedi dei giocatori dici mai sentiti ovviamente non tutti gli undici ma almeno un buon 60 per cento giustamente che come dici tu sono giocatori meno ben conosciuti certo e a me fa paura come partita perché conoscendo il vostro presidente lui avrà già minacciato maran di esonero per via della posizione poco diciamo poco positiva e ho paura che domani maran arrivi col coltello fra i denti come tutto il genoa perché dovrà difendere il posto di lavoro il posto in panchina appunto e quindi ho paura che il genoa anche giustamente verrà col coltello fra i denti con una grande gara una grande volontà e spetterà la fiorentina appunto difendersi e attaccare appunto al momento giusto non credo che la fiorentina dopo il cambio di allenatore abbia già abbastanza esperienza e diciamo anche conoscenza del gioco di brandelli e penso che a dover fare la partita sia il genoa ho paura che possa essere una partita dove nessuno fa gioco perché tutte e due si studieranno tutte le squadre e ci sarà molta paura all'inizio prevedo un secondo tempo più scatenato a seconda di chi va in vantaggio per primo sinceramente ovvio adesso con il fattore della pandemia non c'è più questo grande questa grande forza del fattore campo quindi sì firenze certo non è lontanissima però nel senso è casa della fiorentina sì ma a un certo punto perché non ci sono quei quella tifoseria che ti fa il dodicesimo in campo ecco certo certo d'accordissimo d'accordissimo con te e io oltretutto viene da dire che anche noi sia tutte e due le società in maniera differente abbiamo dei problemi societari allora noi perché abbiamo un presidente nuovo molto accentratore che non è molto competente di calcio italiano perché la major league soccer e le leghe minori americane sono molto differenti dalla serie a e dal calcio europeo e il suo problema è essersi forse affidato a persone non probabilmente nel top del calcio italiano di aver sbagliato delle scelte anche in buona fede secondo me però che hanno influenzato la precedente questa stagione della fiorentina quindi se rimarremo in serie a come spero commisso dovrà appunto affiancarsi a persone più esperte o comunque no perché prada è realtà un esperto però ma non è aggiornato è un po in inglese diremo un po outdated prada appunto magari affidarsi a persone più aggiornate dare un ruolo differente a giobarone che anche lui non è proprio un esperto top del calcio italiano ma un esperto più di major league soccer e affidarsi a un amministratore legato differente a un direttore sportivo differente mentre il genoa ha problemi societari da un po più anni e magari ce ne puoi parlare te cosa ne pensi della società in questo momento genoa e come si sta comportando nei confronti della squadra ma soprattutto nei confronti dei tifosi ma guarda il livello societario in questo momento è non ti dico che sia un caos totale ma anche i giornali li leggendo e vari articoli vari critici eccetera non sanno neanche loro che cosa è che sta succedendo nel senso avrete avrai avrete seguito il fatto di quello che era successo agli inizi cioè qualche giorno fa praticamente qualche settimana una settimana fa dieci giorni fa dove è stato licenziato in punto in bianco il direttore sportivo fagiano dove onestamente sebbene molti critici all'inizio dicevano ma non lo so se la testa giusta con l'altra testa giusta nel senso chi è fagiano con chi è preziosi però sulla carta sembrava una nuova non più scommessa come potevano essere altre cose ma sembrava sulla carta dove dove aveva fatto sia fagiano e poi di conseguenza anche maran comunque sia nel loro passato hanno portato dei buoni frutti delle volte non ti dico dei risultati eccellenti ma avevano portato anche delle delle belle cose nel calcio italiano poi dopo questa catapulta dell'esclusione di fagiano riportare indietro marocco che conosciamo anche lì tre brescia poi quel piccolo esperimento con gene tutto quanto ma non lo sto è un tappabuco non mi piaceva più fagiano di marocco a me fagiano non dispiacerebbe alla fiorentina sinceramente come direttore sportivo secondo me ha fatto una bella rosa al genoa perché ripeto ci sono dei nomi che l'anno scorso giocavano in europa mi viene in mente zappacosta mi viene in mente pellegrini comunque ha giocato in un buon cagliere l'anno scorso ed era di proprietà della ed era ed è di proprietà della juventus mi viene in mente marco piazza o piacca come si voglia piazza credo ma insomma mi sembra che la mi sembra che la che la rosa del genoa non sia così scarsa e penso personalmente che sia stato un errore licenziare licenziare fagiano sinceramente ma secondo me anche poi sai io posso soltanto dire quello che ho letto negli articoli di sia di di da parte di genova che a livello internazionale quanto pare nello spogliatoio dopo la partitaccia contro l'udinese che era una delle con bassi fondi anche loro quindi era una diretta concorrente che avevano perso a udine sembrava che doveva essere cioè no doveva essere la partita della svolta tutto quanto con tutto quel caos che era successo col covid 17 casi tutto quanto dove fagiano è andato in spogliatoio e ha minacciato a tutti quanti che avrebbe mandato chi non si tirava sulle maniche o chissà cosa ha detto esattamente a gennaio li avrebbe mandati tutti via e non aveva tutti torti però sinceramente no ma da un lato hai ragione nel senso è vero infatti molti dicono appunto questa cosa non era necessariamente bella ma era anche giusta e solo che a quanto pare qualche abbassato no come si chiama quelli un po più vecchi dei giocatori un qualche senatore qualche appunto di notore più esperto esatto ha chiamato presidente il quale non gli è piaciuta questa cosa e il giorno dopo è saltato preziosi noto per maloso perché sicuramente un uomo da fare ci sa fare però un po nel mondo del calcio magari non è non è come il mondo degli affari questa è una cosa che potrei dire per commissio e per tanti tanti altri presidenti in in serie a in questo momento io dico sempre che la ferina una società come la fiorentina dovrebbe prendere spunto da società come l'atalanta che piano piano ha ricostruito con percassi fino ad arrivare alla champions league ad arrivare ai quarti di finale di champions league quindi per me l'atalanta per esempio la società da cui si potrebbe prendere esempio gasperini con grande storia geno genoana che è un grande allenatore che mi sta antipatio da morire però è sicuramente un allenatore fuori dal comune anche che pensa tira fuori delle cose dal cilindro veramente interessanti e pensa out of the box come si direbbe appunto qui in canada e mi piace e mi ricordo il genoa di gasperini contiago motta e emilito quel grande genoa lì quando c'era ancora sculli che ci detto del grande filo da torcere per la champions league quell'anno poi purtroppo i rapporti tra gasperini e preziosi molto male come purtroppo finiscono spesso molto male quindi le cose cambiano però ecco gasperini per quanto mi stia antipatio l'allenatore di tutto rispetto e come lo è il suo allievo iuric che anche lui è passato da genoa sinceramente assolutamente assolutamente anche lui a genoa non ha fatto bene però aveva materiale molto diverso da quello che avverò sinceramente materiale umano certo anche prima di chiudere ti voglio vedere se hai un pronostico per domani o non poi pronostici sulla tua squadra del cuore no ci mancherebbe scaramantico sì ma un certo punto bisogna anche essere un po realistici anche se col realismo ci sarà sempre un po il cuore che mi mi batterà sempre un po più forte dando un po poco realtà a volte non lo so diciamo che la speranza mi dice che vorrei il cuore mi dice che vorrei una vincita la realtà mi mi dice che è un x1 allora io non lo so mi sembra vedere una fiorentina sebbene con i suoi problemi eccetera a un mi sembra che ci sia un po più di continuità anche dovuto al fatto quello che ho menzionato prima del fatto dei giocatori che hanno avuto il covid eccetera quindi giocatori che non sono ancora ben rodati vedo che io ho detto un 2 a 2 era il mio pronostico quello realistico ma quell'ottimistico dicevo un 2 a 1 comunque diciamo sudato è non unico non che vi asfaltiamo assolutamente ma un 2 1 faticato per la fiorentina però vedo un pareggio purtroppo per noi e purtroppo per voi appunto come risultato vedremo io prima e prima di chiudere volevo ringraziarti appunto per essere stato mio ospite volevo comunque fare l'in bocca al lupo per la stagione del genoa e ripeto con così come la fiorentina una squadra della storia gloriosa e non si meriterebbe di stare dove sta appunto perché ci sono squadre meno attrezzate delle nostre e appunto non è per togliere rispetto a nessuno ma il genoa ha una storia a livello di scudetti prima del prima del della seconda repubblica diciamo più alta della fiorentina perché voi avete mi pare sette scudetti 9 9 quindi chiedo scusa no ci mancherebbe vogliamo quella nona scusa quella ultima che ci dà il finale la stelletta e quindi ripeto sia fiorentina e genoa avranno una stagione molto difficile perché comunque sia chi vince domani non è che fuori dalla dalle sabbie mobili ecco chi no domani è comunque vicina a una zona retrocessione come sono vicine anche la sampdoria l'udinese lo spezia il benevento siamo tutti lì una stagione lunga travagliata e ti dico che vinca il migliore che vinca il migliore grazie fabrizio grazie anche a te per invitarmi al tuo spettacolo molto molto onorato di averti avuto e magari ci sentiamo presto prossimamente faremo altri video sicuramente già visto che siamo appunto anche molto vicini a livello geografico e speriamo di incontrarci per un caffè dopo è finito il cobit assolutamente consideriamo l'ho già fatto certo io ti ringrazio ancora ti auguro una buona notte una buona serata una buona notte io dico sempre forza viola e mi dice forza genoa ok ciao grazie mille buona serata ciao ciao grazie ciao